wow ragazzi ciao a tutti in un nuovo video e come potete vedere da questa location che alcuni di voi dovranno riconoscere o riconosceranno sono tornato a fare di dove ho iniziato ho aperto il canale nella calle mia ho il camper parquetato vicino perchè devo comunque fare dei lavori al camper e avendo i due anni in calore questo settimane qua la trascordo io nella mia vecchia cameretta tra virgolette e beh però fermi tu a metti di comodo perchè ti voglio fare un video che ho riprescato che ho registrato in questa stanza qua che ti lascio qui che è il video della collezione più grande di fatti su youtube italia e potrei anche quasi dire con un po di sfregio che sono veramente contento quindi se mi sono uscito a poco mi sono uscito a poco e vuoi sapere un po il mio bagaglio di esperienza con i fatti mi guarda quel video che è abbastanza interessante fa capire un po di fatti che ho provato quel video del 2020 credo mi sembra si 2020 o 2021 non mi ricordo però comunque l'anno più o meno dovrei aggiornarlo perchè ho ancora più fatti ora però ecco non è questo il video con cui vado a parlare per chi vuole sapere un po il mio bagaglio di paragoni quando fa una recensione quel video potrebbe essere interessante già che sia abbastanza pieno di fatti bando alle ciance intanto ti sei iscritto al canale ti sei iscritto ovvero mannaggia a te se non mi arrabbio andiamo però a parlare un po nel dettaglio di perché ho fatto questo video video che ci devo a fare per trasmettervi un po lanza e c'è un allenatore perché settimana prossimo uscirà tutti i video anzi a pre gara gli ultimi allenamenti la preparazione premio regionale che il 24 aprimi sono enti alle porte ormai regionale questo video uscirà domani quindi credo dieci giorni da regionale o insomma sul per giù davvero enti vicini e le ragazze la sto vivendo in maniera positiva non in quel senso che non intendo il convite però comunque sia le vedo belle cariche le vedo in forma quest'anno si è fatto un lavoro a mio avviso a mio avviso a mio avviso sicuramente decente e sicuramente più professionale lavorando in maniera più professionale si potrebbe creare delle aspettative verso le ragazze si però le gare sono un po imprevedibili però ecco l'ansia delle gare dell'ansia delle gare da parte delle ragazze ci sono i video a parte vedremo che saliranno per la gara vedremo che siano la settimana prima della gara quindi a breve registrerò e si vede anche loro cosa aspettano a queste gare perché anche interessante vedere loro cosa aspettano prima cosa hanno fatto con il risultato alla mano e cosa ecco se sono contento risultati o se potremmo fare di più appuntamenti sicuri che abbiamo quest'anno sono regionali il 24 aprile e coppa italia a maggio nel weekend del 13 12 maggio quindi sicuramente abbiamo due date molto vicine però ci sta sono carico per questo punto di vista e spero di far bene ma ora andiamo però nel solo del video cosa mi aspetto io dalle ragazze cosa mi ha studiato questo programma e se sono contento del programma che ho portato in palestra nell'inverno il lavoro abbiamo scelto di fare e anche il fatto che abbiamo scelto di lavorare quest'anno addirittura più selettivi nel classic se l'anno scorso comunque ho fatto anche roller cross con tutte le ragazze quest'anno soltanto rebecca farà roller cross il resto farà soltanto classic e battle e beh te dici già ottimo ti sei specializzato poi hai fatto un bel lavoro sì però c'è un po d'ansia perché c'è un po d'ansia beh perché comunque se va male quel minuto e mezzo di gara è quella andata cioè ti è poco da farti se magari fai speed fai high jump fai cosa magari c'è una cosa dirgli all'atleta dai su magari ti rifai allo speed oppure dai su magari ti rifai a roller cross come può fare becca nel nostro caso ti posso dire è ti rifai alla battle e poco più come cosa sono comunque contento di questa scelta sì credo che lavorare su una sola disciplina sia il metodo migliore per ottenere risultati e per ottimizzare risultati in palestra per le ore che ho io e questo è riguardante le ore che ho io sono a più ore o a più giorni di nati per esempio tante scuole che portano classic e speed ci tengo a dire questo perché non sembra sembravo solo te e ti vanti di come se fai allenamenti no magari si allenano su cinque giorni e fanno lunedì martedì classic mercoledì e venerdì speed beh in quel caso hai la stessa sistemamento che faccio io perché comunque sia prepari in dei giorni lo speed e in dei giorni classic io purtroppo non avendo a disposizione una settimana completa ma avendo due scuole quindi avendo comunque sia fondamentalmente mezza settimana di dare a una scuola e mezza all'altra ho scelto la disciplina che ritengo più che sono insegnare meglio e mi piace di più perché sono e bisogna insegnare anche le cose che ci piacciono e si riesce a trasmettere meglio e niente ecco quindi lasciate classic comunque sia molto bene averla fatta quest'anno l'inserimento di una figura esterna che è la coreografa di essermi spostato giù a roma infatti ringrazio francesco perché è un ospedale ottimo e mi ha permesso comunque sia di corregge delle mie lacune perché sì ho molte lacune e spero che il prossimo anno vedrò questo video capro guarda che errore ho fatto a quei regionali per migliorare però ecco sicuramente quest'anno arriva il regionale molto sereno l'anno scorso l'ho preparato in due mesi scarsi sono arrivato con il giorno della gara ma vi giuro a provare le coreografie a diritto alla pista accertato perché se la precisi quest'anno ho finito sette giorni fa le coreografie di classic le stanno provando e vedo c'è dei panici c'è ieri giulia mi ha mi sei impanicato il numero della fotografia beh si riparte da capo risettiamo e la rifacciamo avere comunque sia ora altri dieci giorni tempo alla gara ti dà tanta tranquillità poi c'entra quando sei in se ti cacchi addosso e sbagli sbagli questo può avere anche un anno di tempo per prepararlo però sicuramente arrivare alla gara con così tanto anticipo steografie dà una bella tranquillità alle ragazze almeno questo è quello che vedo io ma andiamo a parlare un po' dei risultati che spererei ottengano allora non faccio idee di podio perché non so minimamente il livello delle altre scuole e spero di trovare avversari forti e se perdo comunque si analizzerò i miei errori e analizzerò il perché ho perso ho perso perché la ragazza è più brava ci sta sono contento vuol dire che devo lavorare meglio per migliorare le mie atlete ho perso perché la mia atleta si è impanicata male malissimo ho lavorato forse male io allora in all'interno della palestra perché non ho creato abbastanza ansia durante gli allenamenti per riuscire a far lavorare la mia atleta sotto stress per gestire al medio l'ansia è caduta perché è proprio una cosa che gli venne sempre mai scivolata ci sta capita quella sfiga non ho un problema in quel caso di è il bello delle gare no non puoi provare una cosa mille volte arrivi in gare e la sbagli quello ci sta non è un problema se lo sbaglio è di impegno c'è lo sbaglio un passo quello non è un grosso problema sono contento e sono felicissimo di risultato che portano il mio obiettivo sarebbe che loro uscissero dalla gara indifferentemente dal punteggio soddisfatti del lavoro fatto cioè coreografia diavola bene per loro va bene mi escono della gara dicendo già hanno fatto un bel lavoro nome ecco questo è il top che poi arrivi ultima che poi arrivi prima che pari di quarta che pari di quello arrivi come riuscire a essere soddisfatto del lavoro riportato in gara è giusto che poi io sono affatto il massimo arriva utile prossima impegna al cento per cento deve soddisfatta si deve voler migliorare perché voglio arrivare a vincere però se io ho fatto la grafica bene se quel rimasto potevo fare e otto atlete e avversari più forti e ci sta di arrivare ultima la vedo così bisogna lottare per vincere proprio neanche riconoscere quando si è fatto dopo una gara ecco se invece si è fatto una gara e fa schifo bisogna capire perché ho fatto dare fa schifo saliamo poco salato poco seriamente già for cozziglio rio allora mi ha interrotto rio con un graffio allucinante sul braccio canaccio vieni qua 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 ecco vi saluto anche io ciao rio ciao saluta ok dicevamo quindi ecco sono me l'impegno dato in durante l'allenamento quindi sono una persona sbagliato e arriva alla gara e si accorge che poteva far meglio per me deve andare a capire perché magari sei nata poco magari sei nata con la testa tra le nuvole magari quando io mi c'era un'altra parte smettete chiaramente e faceva la furbina che è stata passata la mente in gara si fa sentire quindi ho anche l'ansia per aver creato delle aspettative sulle ragazze perché comunque quest'anno abbiamo fatto un progetto grande ma ci sarò un sacco di volte e ciò franci teggiato ma te ringrazio ancora siamo andati con lorenzo usare di lavorare hanno fatto gli stage ci siamo andati molte ore in più quindi comunque stanno i genitori hanno investito il loro tempo denaro per le figliole quindi comunque crea delle aspettative quindi c'ho anche l'ansia di arrivarli in gara e comunque sia deludere queste aspettative non è un problema che ha parlato chiaro nei genitori non è che ho grossi problemi però ecco il mio obiettivo è di far bene e di essere soddisfatto di fotografia Alessia ha fatto un lavoro stupendo la ringrazio tantissimo insieme anche ad Asia la coreografa che hanno lavorato veramente bene il prossimo anno vorrei migliorare ancora parte della coreografa sono diciamo soddisfatto ma non mi sento e non credo che sono contento al 100% perché vorrei lavorare anche con gente che fa hip hop vorrei lavorare con gente che ha anche dei stili diversi rispetto al classico stile arti dell'artistico però adesso si è dimostrata veramente molto brava e competente quindi Asia top ti ringrazio e niente quindi ecco questo era un video che ci voleva fare per raccontarvi anche un po' i dubbi le paure e ciò comunque di scendere in gare far tutti gli ultimi posti e comunque ci può stare e nel caso di questa cosa devo capire perché è successa per cercare di non farla succedere più anche se purtroppo le gare sono così uno parte con le dalle voglio vincere io vorrei vincere le gare con le atlete non tanto per me perché non mi interessa di essere considerato un proprio insegnante però comunque mi piacerebbe che le ragazze avesse la soddisfazione e che portassero i risultati per l'impegno che hanno portassero i risultati per l'impegno che ci hanno messo quindi ecco sicuramente sarei molto felice se avessero degli ottimi risultati e niente ragazzi questo video è anche troppo lungo io spero di aver fatto due chiacchiere con voi in maniera carina e simpatica io dalla mia vecchia cameretta ci chiediamo un prossimo video e riu sali sali dai dai vieni qua eccolo qua io e riu vi salutiamo e ci chiediamo un prossimo video ciao 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 ciao